ciao a tutti io sono billy e questo è il mio primo video non dovrei essere io che dovrei fare questa intro ma certo tu sei il principale e toghi ti gallina aaaah dopo che tu sei partito per questa vacanza credo che sarei un po stanco ma che dici stanco mi sto gasando per il nuovo aggiornamento di minecraft davvero c'è un nuovo aggiornamento dimmi quando è proprio dietro di te vediamo un po che bello nuovo aggiornamento di minecraft è uscito proprio oggi non vi aspettavate un video così eh un piccolo annuncio questo è il mio primo video degli aggiornamenti e quindi questa qui sarà una nuova serie faremo anche clash royale allora iniziamo da quel che vedete laggiù avete già capito cosa è toglie allora avremo dei nuovi blocchi che è il blocco di porpora e il il colonna di porpora questi due sono nel land city ah si vi annuncio questo qui è il nuovo aggiornamento ufficiale allora nuovo 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 rumore della porta al suo rumore se non c'è sentito lo sentite quello che c'era qui nuovo nuovi mezzi blocchi e una nuova scala che la mezza scala di porfora ah si nello scorso aggiornamento di minecraft e non l'ho parlato è stato aggiunto questi blocchi qua allora questo poi è stato aggiunto questo poi questo poi questo qui e questo qui qui e alcune altre cose sempre i mezzi blocchi qui qui il blocco d'ossa vabbè allora continuiamo nuovo ortaggio questo gioco scusate un attimo questa interruzione che dovevo rivedere i miei aggiornamenti allora questo è il la pianta la in pratica eccolo qui in pratica fa crescere una pianta enorme che adesso si è evoluta mentre questo qui è fragile come il il cosa come vedete da qui avrete le teste avremo le teste del drago eccolo qui a ciao a tutti ragazzi io sono EnderDragon Gamer sei grande qui c'è scritto la testa cioè non ci sta bene così abbiamo un nuovo arnese non ho messo il nome se lo tocchiamo BOOM vabbè che è scoppiato tutta l'ora abbiamo un nuovo mob che è proprio lo shurker eccolo qui toc toc e l'amico toc toc puoi rispondermi toc toc avrei bisogno di un'informazione non lo so toc toc rispondermi rispondermi dov'è? dov'è? dove' è andato? dove è andato? dove è andato? ah si come vedete gli iscritti adesso avranno una texture tutta da loro i punti che saranno più veloci come nel pc e dove è andato quello stupido shulker vabbè lo shulker che essere volevo soltanto salutarlo e degli buongiorno amico comunque nuove nuove cose soprattutto le nuove ali finalmente adesso li testeremo insieme finalmente abbiamo qualcosa di utile oltre dei mini game eccole eccole ragazzi l'avete aspettati e poi dovevano uscire il precedente aggiornamento non questo questo aggiornamento doveva uscire al prossimo seguito la nuova polarità di combattimento con due mani ma l'anticipato abbiamo un nuovo semi credo che si chiami scusate se non l'ho messi si frutto in pratica il il frutto completo che si può mangiare ci possiamo teletrasportare le nuove frecce finalmente una volta nella nostra vita eccole qui proviamo un po' quella di veleno boom ahahah c'è di sotto comunque abbiamo le nuove funzioni la potessi respiro del drago pozione presi persistente cosa fa oh mio go ok da rigenerazione ancora non ho capito cosa serve questa pozione credo che bisogna beberla lanciarla chiare non lo so ma comunque questo era il nuovo aggiornamento ma prima ci vediamo appena abbattuto il lander andremo a battere il lander dragon perchè ci sarà una cosa veramente speciale e poi e poi mi mostrerò la rinascita del drago del lander oh togliti di lì oh togliti di lì vi lì ho sconfitto delle cose qualcosa volevo dire il drago lo sapete una cosa se per caso mettete il cristallo del limite qui lo mettete il drago potrà ricaricarsi ma noi non vogliamo che succede questo ah se piccola premessa si può prendere questa cosa e ci si può fare qualcosa il drago è stato abbattuto ma lo faremo anche nel nostro let's play il portale si accende ma insieme a essa si sblocca qualcosa veramente strano eccolo qui il portale per la hand sei te però noi vogliamo fare io voglio farvi vedere come ricreare l'ender dragon bisogna mettere i cristalli del limite tutti intorno ai lati e BAM l'uovo è scomparso si sente il suo rugito vedete che c'è da ricombattere ma noi ce ne andiamo qui perchè non vogliamo sapere niente di più eccoci qui come vedete siamo nella terra del land dove il faro svanirà e quindi scusate un attimo nella nuova hand city ecco da qui solo che non capisco perchè non spawnano le navi e i castelli c'è questo coso che si illumina e quindi andiamo a vedere lo shulk come si comporta quella lander dove sono le uova eccolo adesso andremo a vedere come si comp- ah si andremo a vedere il nuovo tutorial ma prima andiamo a vedere come si comporta lo shulker davanti a noi mettiamo i privilegi del lost perchè cosi mette ah si c'è una nuova texture che vi farò vedere davanti ai vostri occhi ci faremo una serie tutte ste oddio mi hanno già colpito no 7 6 5 4 3 credo che siamo morti no ecco come si comporta lo shulk non ci provate oh salve oh oh mi hanno intercettato mi hanno intercettato uno è morto uno è morto ecco cosa succede adesso andremo a vedere il nuovo tutorial credo che salva adesso da solo andremo a vedere il nuovo tutorial in creativa in creativa inizializzazione andiamo a vedere il nuovo tutorial super mega fantastico eccolo qui gente preparatevi per il nuovo che ci fa qui nel regno di darton preparatevi per il nuovo tutorial che si trova oltre semmura già se riesci a vedere qualcosa preparatemi è veramente veramente grande ora ve lo mostrerò a breve e ve lo commenterò però ve lo farò in un prossimo episodio qui c'è una bellissima spada in diamante più caduta della piuma ma noi posiamo questa spada in diamante perchè lo andremo a esplorare il prossimo episodio comunque gente noi ci vediamo a un prossimo video in pratica subito lasciate un like e andremo a esplorare sta mappa ciao